eccoci arrivati a santa cruz e ho già fatto il mio primo acquisto della vacanza ovvero questo cappellino ogni viaggio compro sempre un cappellino e non ero mai stata santa cruz ed è diciamo come me la immaginavo quindi piccolina abbastanza tranquilla silenziosa colorata stiamo qui due notti questo è il programma abbiamo anche una collaborazione con un albergo come si chiama l'albergo i primi di santa cruz e io vorrei anche riuscire a surfare anche se in realtà qui dovrebbe essere abbastanza fredda l'acqua ma vediamo dai più tardi ci proviamo adesso abbiamo appena pensato ecco la nostra stanza vista mare vista molo ed ecco lo spot onde piccoli gentili come piacciono a me sto per andare a buttarmi in acqua allora siamo passati praticamente dal campeggiare in macchina al freddo a questo hotel stupendo di santa cruz con cui stiamo facendo una collaborazione e l'hotel è il dream in ed è proprio davanti allo spot dove sono entrata a surfare oggi guardate che bella vista quando lights go out a me sto per andare a riuscire a surfare oggi guardate che bella a surfare oggi guardate che bella Grazie a tutti.